Affrontiamo una partita importantissima di Eurolega, contro un avversario che ha giocato molto bene, ha praticamente potuto vincere tutte le partite che ha giocato finora, per questo la nostra vittoria di Charleau-Douard ha assunto un'importanza ancora superiore e ci aspettiamo una partita punto a punto, una partita probabilmente lunga, dobbiamo avere pazienza e non assolutamente nervosismo per poterla risolvere nel quarto quarto, se così sarà, perché il rispetto per il nostro avversario è dovuto per come hanno giocato e per la qualità del roster e dell'organizzazione che hanno saputo mettere in campo in questa Eurolega. Da parte nostra la motivazione è ovviamente alta, abbiamo i nostri problemi fisici in soluzione o in gestione e dal punto di vista della fiducia, la vittoria fuori casa di domenica ci ha dato una spinta per poter continuare a competere anche in Eurolega.